Ciao a tutti e ben ritrovati. Allora, oggi andiamo a commentare una live buasta in cui c'è stato un concentrato di ribellione, atteggiamenti lossoriosi e un bel po' di volgarità. Sembra una puntata di Beautiful? No, è solo l'ennesima live buasta di Davide. Siete curiosi di sapere cos'è successo? E allora andiamo a vedere nel dettaglio l'accaduto. Partendo dai consueti saluti iniziali, l'attesa snervante dell'arrivo degli utenti e la richiesta di mettere like. Poi finalmente iniziano ad arrivare i primi utenti che chiedono qual è l'argomento della live? Beh, direi che con un titolo del tipo Siete delle Merde c'è poco spazio all'immaginazione. A questo punto della live succede un qualcosa che mi ricorda molto le scene dei film di Fantozzi. Perché? Perché arriva un utente e chiede a Davide cos'è il naviglio? E lui. Dice Sinavidio un fiume, un grande fiume, che sfocia nel Po. Però per sicurezza chiediamo a Luciana, ex maestra e plurimedagliata con l'Ambrogino d'Oro, che risponde correggendo Davide e dice Non è il Po, ma mi sembra sia il Ticino, che va verso Pavia. No, aspetta, forse verso Alessandria. Ma siccome c'è molta indecisione sull'argomento, si va a documentare su internet e si scopre che non è un fiume, ma un canale che nasce dal Ticino e finisce nella Darsena. E lui. Ma io l'avevo detto il Ticino. Ma non è vero per niente. Ti avevi detto il Po. Poi, finito questo siparietto fantoziano, iniziano le domande volutamente bizzarre da parte degli utenti, proprio per Davide, del tipo Davide, ma stasera resti con noi fino al tuo HBD? E lui. La domanda la rilegge più volte, ma non riesce a decriptare questo HBD. Poi qualcuno mosso a piedà gli spiega che vuol dire felice compleanno. Quando irrompe ancora una volta la Luciana, perché ritorna sul discorso Naviglio e afferma È un canale artificiale. E Davide. Ma non era un fiume? Ecco. Nel frattempo che succede tutto questo, c'è Emma Rice che inizia a fare delle domande strategiche, del tipo Quanto tempo starai in live, Davide? Chiara non c'è collegata? Lui un po' risponde, un po' lecca la palettina con cui sta rigirando nervosamente il suo caffè. E forse proprio questo libidinoso gesto spinge Emma a fantasticare su un eventuale live hot. Ma Davide dissente quasi subito. Ma a rendere l'atmosfera incandescente è un commento di Dia Dada. Che salutiamo. Allora, commento in cui dice Davide, ma almeno domani prenditi un giorno libero. Te lo meriti. Commento a cui risponde subito e con impeto la signora Luciana, anziché Davide, dicendo Ma scusa un po', Dia Dada, ma pensi che Davide sia uno schiavetto di casa? Per caso? E Davide cerca di riequilibrare la cosa dicendo ma no, ma forse si riferiva a YouTube. Ah, però la Luciana è abbastanza acidella quando ci si mette. Poi però c'è la proposta da parte della peperina Emma Rice di organizzare una colletta per regalare a Davide un completo firmato Armani. e lui risponde che da sua suocera non se lo farebbe mai regalare perché? Perché troppo costoso. E lei risponde che non era neanche in discussione la cosa. L'aria inizia a diventare pesante e in loro aiuto accorre Chiara a moderare e irrompe con un commento del tipo Cercate di non dire minchiate e torna subito l'aria mena con cui era iniziata questa live. La Luciana intanto ancora rimugina sul fatto che le abbiano proposto di acquistare le stesse al completo Armani a suo genero e rilancia con un sapete qual è il regalo più bello che potreste fare a Davide? Regalargli tanti like e possiamo tranquillamente dire che mi sa che non l'hanno ascoltata perché al momento ci sono 101 like contro 573 dislike. Quindi la live va avanti ancora per un bel po' parlando sempre dell'argomento completo Armani e a questo punto c'è un commento poco profetico da parte di Chiara che scrive non ci riescono a rovinare questa live. Siamo arrivati al Davide Pensiero che se proprio dovesse acquistare un completo Armani sotto il completo dovrebbe indossare assolutamente anche biancheria intima dello stesso marchio perché se no non ha senso. Poi qualcuno gli chiede Davide che regalo ti hanno fatto i tuoi genitori in occasione di questa ricorrenza speciale? E lui risponde nulla, solo il loro amore e la dolce Luciana aggiunge è bello il compleanno con amore ma anche con il regalo però. Ora, siccome l'argomento completo di Armani è stato ampiamente discusso Chiara propone un nuovo argomento parliamo di banane. Ah, eccoci e a quanto pare gli utenti sembrano apprezzare molto questa virata di argomento e anzi partecipano attivamente con commenti del tipo le banane danno più soddisfazione che i completi di Armani ecco, commento ripreso da Luciana che prova a spiegarne il senso a Davide nel frattempo Chiara infiamma letteralmente la chat con un commento del tipo io preferisco la mazza di mio marito ed è tutto un crescendo di commenti ambigui e soprattutto ricchi di doppi sensi ed in questo senso Chiara si propone parecchio spesso con ulteriori commenti del tipo il mio frutto preferito è quello di mio marito ed è l'unico pesce che gratisco mettendo palesemente Davide in imbarazzo Per fortuna arriva una coccinella a distrarre l'allegra e irriverente con Briccola e scopriamo che Davide non era a conoscenza dell'esistenza dei maggiolini perché? Perché associa a questa parola solamente a un'auto a un modello di auto fa tenerezza questo ragazzo e proprio in questa parte di live iniziano ad arrivare le prime lamentele per quanto riguarda l'operato di Emma Rice come moderatrice perché? Perché banna e mette in time out senza alcun motivo neanche queste avvisaglie dell'imminente disastro che sta per accadere distraggono Chiara che continua in perterita con stasera mio marito mangerà l'ostrica a mio marito piace giocare con i meloni ecco cose che ovviamente nessuno avrebbe mai voluto sapere e qualche utente inizia a risentirsi salutando ed annunciando che non seguirà più il loro canale boh niente bisogna cambiare discorso quindi qualcuno chiede Davide cosa hai fatto di bello oggi? e lui fa un attimo mente locale e poi risponde allora ho fatto una live di due ore e poi ho messo le scarpe di mia moglie nell'armadio ebbe tutta vita insomma poi qualcuno fa notare che mancano appena 55 minuti per mezzanotte ebbe come passa veloce il tempo quando ci si diverte e proprio a proposito di divertimento inizia l'angolo delle barzellette dove ogni utente ne racconta una ok un po' datate sì un po' scontate sì ma tutto sommato divertenti l'unica che non si diverte più di tanto è Chiara perché preferiva l'argomento precedente cioè banane e da fini intanto c'è Emma Rice che inizia a fare delle battute molto sopra le righe tanto che viene ammonita sia da Davide che da Chiara per l'alto tasso di volgarità a tutto ciò la signora Luciano non ha capito niente perché parla di brioche quando finalmente capisce che sta succedendo qualcosa perché perché Emma Rice è stata rimossa dal ruolo di moderatrice e passano le lamentele degli utenti a questo esatto momento inizia quello che definiremmo il caos perché perché arrivano degli utenti con commenti dove muovono delle accuse a Davide a riguardo della sua nonnina che non c'è più e anche in questa occasione la Luciano non ha ancora capito cosa sta succedendo perché interviene dicendo che lei è convinta che uno dei momenti più belli della vita sia quello di quando ci si trovi davanti ad una torta per esprimere un desiderio Davide le risponde io invece a volte penso che ci sono proprio delle gran teste di cazzo in giro oddio c'è poco onesso tra le due cose però comunque un pensiero direi molto condivisibile quello di Davide e torna a scrivere Emma Rice in chat da semplice utente che si dice risentita e cerca di creare anche un po' di zizzania e in molti proprio per questo le fanno notare che quel tipo di battute con le banane non va assolutamente bene a dare manforte a Emma arriva anche un'altra utente non si sa magari forse sempre lei con un altro fake di nome Diana prontamente bloccata e quindi insomma grande malcontento per l'operato di Emma come moderatrice ma di questo ne darà ulteriori dettagli Chiara in una live che aprirà appena Davide chiude questa sua quindi riassumendo cosa è successo è successo che questa Emma Rice o chi per lei ha fatto tutta la carina per farsi nominare moderatrice nel canale di Chiara e anche il canale di coppia Chiara e Davide Chan una volta che è stata nominata moderatrice ha creato un gran casino quindi morale della storia che avevano aperto questa live per canzonare ma sono stati canzonati bene questo per oggi è tutto io vi auguro buona continuazione di giornata e vi do appuntamento a quello che sarà il prossimo contenuto un bacio a tutti da Cosi e vi do appuntamento